Om Amini Ecco, vi presento comodamente seduto sul tappeto RD Grid di Amini. Il tappeto di Amini presentato all'ultimo salone del mobile 2022 su disegno della designer Elisa Ossino dal nome Nostalghia. Nostalghia è annodato a mano in cotone organico. L'Ossino con il suo disegno esprime un'atmosfera metafisica caratterizzata da un'esplosione di colori, forme e tridimensionalità. La designer siciliana Elisa Ossino nel suo lavoro combina astrazione geometrica, monocromie, ma anche policromie, riferimenti metafisici e surrealisti. Privileggia linee e geometrie essenziali che si traducono nello spazio in segni capaci di conferire un marcato senso scenografico. Nostalghia è un prodotto certificato GOTS perché il cotone organico che lo compone viene coltivato con delle regole che impongono agli agricoltori di non utilizzare pesticidi e sostanze chimiche tossiche, offrendo così un'alternativa valida al tipo standard. La coltivazione biologica del cotone si serve di prodotti per la disinfestazione naturale, come fertilizzanti organici e compost, per sostituire quelli chimici. Durante la produzione si utilizza meno carbonio grazie al minor consumo di carburante ed energia. L'assenza di fertilizzanti sintetici nella coltivazione del cotone ecologico non inquina il suolo né le acque. Terreni sani portano a raccolti sani e la salute dei lavoratori così non è compromessa. Non utilizzando sementi geneticamente modificate, i produttori evitano di entrare in contatto con sostanze nocive per la loro salute. Nostalghia esiste in due versioni grafiche e di colore, a cui poi viene dato il nome specifico, terra e acqua. Non a caso, terra e acqua che sono particolarmente salvaguardate attraverso la produzione virtuosa di questo tappeto. Adesso torno a meditare e a ricaricarmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.